E sulle tracce di un quarto uomo la squadra mobile di Tommaso Uniglio, dopo aver assicurato agli arresti domiciliari, tre pregiudicati aquilani tra i 24 e i 37 anni per rapina. I tre con precedenti di droga e spaccio avevano messo a segno un colpo da 8.500 euro nella sala giochi Battistelli e tentato altri due colpi, uno nel ristorante cinese Nuovo Impero all'Aquila e in una tabaccheria di Sant'Elia. I tre giravano armati di ascia e coltello e proprio l'improvvisazione della banda ha allarmato oltremodo la polizia che temeva gesti inconsulti. I malviventi infatti entravano negli esercizi commerciali quando ancora c'erano clienti. Ci hanno messo in allarme innanzitutto le modalità esecutive delle rapine, per cui l'ingresso all'interno degli esercizi commerciali con asce e coltelli e l'assoluto senso di impunità che noi abbiamo comunque confutato grazie a delle indagini rapide e veloci che avevano questi tre di poter entrare all'interno di questi esercizi commerciali puntando delle armi contro il proprietario o contro i clienti che vi fossero all'interno e facendosi consegnare del denaro. È stata un'indagine importante perché abbiamo stroncato sul nascere un gruppo che voleva nella città seminare terrore perché abbiamo registrato e offerto all'autorità giudiziaria fonti di prova in ordine a tre fatti criminosi. Sembravano mossi da un senso di impunità, ha detto Niglio, tanto che dopo un primo interrogatorio in questura i tre all'uscita hanno cercato di mettere a segno un altro colpo pensando di usare la loro precedente chiamata dalla polizia come alibi. Loro ritenevano che questa assoluta collaborazione li potesse garantire la possibilità di sfuggire all'azione dell'autorità giudiziaria e della polizia di Stato. Riteniamo alla luce dei precedenti penali di polizia che abbiamo registrato che fossero alla ricerca di denaro per debiti di droga perché comunque si muovevano sia come consumatori che riteniamo anche come venditori.